ciao a tutti da biosport benessere oggi voglio parlarvi di questi prodotti per capelli della linea noa la trovate da tigota è una linea non biologica ma senza alcuna schifezza praticamente gli manca solo la certificazione è un prodotto professionale quindi è ottimo perché sentirete sui vostri capelli che sono sciampi molto buoni come da parrucchiere ma la cosa buona è che sono senza siliconi senza parabeni paraffina oli minerali idea sls e che dirvi allora è da un litro ma fanno anche la versione a 250 ml quindi se volete provare le varie categorie perché questa è quella purificante al tè basilico poi c'è quella quotidiana lavanda di cui vi parlerò in seguito e molte altre non tutta la linea noa è a buoninci potete fidarvi solo degli sciampi per dirvele in breve che hanno la versione questa da un litro quelli sono tutti a buoninci quindi andate sul sicuro mentre quelli piccolini da 250 ml che non hanno il corrispondente da un litro dovete andare a controllare a buoninci perché poi ve lo dirò in seguito non tutti sono perfetti per quanto riguarda il balsamo anche quello da un litro a buoninci quindi potete andare sul sicuro allora questo qui è purificante al tè verde basilico per chi è idoneo qui dice per un cuoio capelluto con tendenza a forfora a desquamazione non ve lo consiglio se magari non vi piacciono gli odori pungenti poiché l'odore di basilico si sente veramente veramente tanto ma per chi non fosse interessato all'odore ma soltanto al risultato vi posso dire che il prodotto è fenomenale va bene per forfora grassa in quanto è un ottimo desquamante e purificante della cute vi sentirete proprio la cute più sana quindi per chi ha problemi di un la anche di dermatite seborroica ovviamente non a livelli di croste che hanno bisogno di cure mediche posso dirvi che questo prodotto fa proprio a caso vostro infatti io tempo fa vi avevo parlato del fitocose del detergente alla malva di fitocose che è per la dermatite seborroica del viso e dei della cute dei capelli quello è un curativo naturale curativo qualora la situazione quindi fosse migliorata e quindi siete riusciti a curare il vostro problema come mantenimento questo è un ottimo prodotto io l'ho testato anche su me stessa e non ho più avuto problemi di dermatite ovviamente dovete stare sempre attenti all'alimentazione perché vi ricordo che la dermatite spesso è dovuta ad alimenti che il vostro corpo non tollera magari un'intolleranza alimentare al lattosio al frumento al lievito o quant'altro che può scaturire in dermatiti oppure a periodi di stress e qualora siete riusciti quindi a non avere più quelle crosticine fastidiose tutti quei pruriti volete solo avere un mantenimento quindi avere uno shampoo ad uso quotidiano e di routine questo ve lo straconsiglio la ditta dietro dice shampoo purificante ad azione riequilibrante per il cuoio capelluto con tendenza alla forfora ed esquamazione effettivamente è riequilibrante sentite proprio la cute che viene purificata la sua base lavante come dice qui è fatta da detergenti di origine vegetale dolci e rispettosi dei capelli infatti non sentirete la pelle cioè la cute dei capelli che viene aggredita da questo shampoo ma va a purificarla senza come si può dire modificarne l'equilibrio contiene tè verde basilico che ha un'azione antiossidante termopurificante e hanno l'acido undecilenico che dà energia al capello perché sapete che anche per chi ha problemi di forfora grassa desquamazione e quant'altro il capello viene un po' soffocato e si un po' indebolisce poi che dire vabbè l'applicazione è come un qualsiasi shampoo massaggiate sui capelli bagnati risciacquate e ripetete se necessario quindi se avete un problema forte di capelli diciamo con molta seborrea o anche detta forfora grassa magari lo applicate due volte se sono sfocchissimi tre ovviamente non di più sennò penso che la cute possa diciamo soffrirne il prodotto è veramente ottimo il prezzo un litro sta intorno ai 14 euro credo che sia un buonissimo prezzo per un prodotto senza schifezze la versione da 250 ml invece sta un po' di più però ognuno per trovare il proprio shampoo invece di andare a sprecare un litro di shampoo ovviamente deve avere la possibilità di provare una dose inferiore casomai poi prima provate quello da 250 ml una volta che avete trovato il vostro shampoo andate con quello da un litro è made in italy quindi prodotto italiano e che dire a voi la scelta dello shampoo oggi vi ho parlato di questo in futuro vi parlerò degli altri shampoo della linea ciao alla prossima da biosport benessere